i miei cosmi in abbraccio con il significato del senso della misfizia questo rimarrà qui al Carducci di tanto in tanto se vi andrà di venire qui a prendere un brindisi con qualcuno potrete dire mi ho fatto quel cosmo in abbraccio per cui in questo momento vorrei consegnare in modo ufficiale il mio cosmo in abbraccio Stefano beh intanto allora tiro la linea tiro la linea ho bisogno di un po' di spazio ho bisogno di un po' di spazio e tiro la linea vediamo come tiriamo una linea su ciò che era ieri? fino adesso io vi ho parlato di ieri vi ho raccontato ciò che ho fatto, le storie passate avete visto quadri di ieri pochi c'erano solo questi ma da questa sera intendo farvi vedere l'ora mettiamo via ciò che c'è stato e entriamo nel qui ed ora per cui a questo punto se metto e poi sto per consegnare, sto per tirare la linea a Stefano e dopo di che si prosegue ok e la linea la tiro in questo modo perfetta ci sono le firme di tutti e la cosa mi piace la vado anche c'è il tuo nome lì? sì sì il tuo nome è Alessandra Alessandra una collaborazione pazzesca per cui termino con Cosmo un abbraccio al caffè per se personale un barato un barato un barato Grazie a tutti. Grazie a tutti.